Buongiorno, grazie a tutti e grazie dell'invito. Come potete sentire la mia mobilità è piuttosto scarsa e questi non sono giorni brillanti ma ce la faremo. E grazie soprattutto di aver dedicato questo anno accademico al tema dell'inclusione, che credo sia uno dei temi importanti per scegliere tra società aperte o società chiuse. Includere altri, includere i diversi. In questo paese sembrano diverse persino le donne, non è solo in questo paese, in generale. Sembrano diverse anche se sono più della metà della popolazione, per cui anche l'inclusione nel mondo del lavoro, nella condivisione dei compiti familiari eccetera. Rimane ancora una lunga strada da fare anche se dobbiamo dire che molti passi sono stati fatti, il che vuol dire che cambiare si può lentamente, con grande fatica e se si può bisogna che ci proviamo. Abbiamo poi un altro tema che include anche una grande parte di popolazione al femminile, su cui mi sono dedicata in questi ultimi anni, devo dire. Ed è quella dell'inclusione e dell'integrazione di altri, da noi, che come diceva Mandela, uno è giallo, l'altro è nero, l'altro è bianco. Rimane il fatto che il sangue è rosso per tutti. E noi questo non lo vogliamo capire, per cui siamo stati bravissimi nell'emergenza in queste settimane, comunque accordo o non accordo con la Libia, migliaia di persone hanno preso il mare scoprendo altre vie, dalla Tunisia piuttosto che da Tripoli Est. E però poi facciamo fatica a integrarli o a integrarne una parte, perché l'8% della popolazione è già legalizzata nel nostro paese ed è anche un grande contributo sia culturale che economico. Rimane al di fuori, perché ce lo stiamo creando noi, grazie alla Borsifini, un esercito di 500.000 persone, donne comprese, che invece sono clandestini, perché ci siamo persino inventati il reato di clandestinità, nella speranza che non arriviamo al reato della povertà e che invece sono solo irregolari. Perché in questo paese è impossibile entrare legalmente per ricerca di lavoro. In questa popolazione c'è la parte femminile, che è una parte consistente, a cui credo abbiamo finora dimenticato o dato pochissima attenzione. Presi come siamo stati in molti o siete stati in molti sull'idea di cacciamoli, alziamo il muro, se ne stiano a casa loro e tutte queste francamente stupidaggini. Per fortuna abbiamo una pratica diversa, specie con le donne africane, che abbiamo continuato sia dalla campagna contro lo sterminio per fame che con la campagna in corso sulle mutilazioni genitali femminili, che immagino sia una pratica che si portano dietro anche quando emigrano, esattamente come l'emigrazione italiana si portava dietro il delitto d'onore e se l'è portato dietro per un sacco di tempo. Ma credo che possono essere invece una via molto importante per accelerare l'integrazione, che vuol dire, come per le donne italiane, che vuol dire educazione, vuol dire scuola, vuol dire sostegno, vuol dire famiglia, vuol dire diritti sessuali e riproduttivi e avanti di questo passo. Io credo che l'importanza del vostro corso sia di aprire gli occhi ai ragazzi e alle ragazze, perché se li si aiuta a studiare, non dico in termine mnemonico, ma a curiosare, a divenire curiosi, credo che diventeranno anche più resistenti rispetto a tutte le bugie che gli vengono raccontate dalla mattina alla sera, che siano gli stupri, che sia il discredito sulle ONG, ci mancava pure la zanzara e quindi siamo coinvolti o rischiamo di essere coinvolti in una specie di bolla assolutamente, come dire, incredibile, tra virgolette, nel senso etimologico del termine e non riusciamo più a vedere qual è il potenziale della diversità, se ben governata, perché essere diversi aiuta, essere diversi fa crescere, a condizione che alcuni punti fermi siano messi e che, oltre che di diritti, si parli anche di doveri. Ma questa è una lunga esperienza da tanti anni nella mia vita sulla diversità di percezione del mondo femminile, ancora adesso bollato, molto stereotipato, eccetera. Sono invece convinta che il merito aiuterebbe le donne e il criterio del merito che voi avete scelto credo sia un grande contributo. Grazie, buon lavoro e buono studio soprattutto.